è il vero trascinatore ma non basta così ecco l'episodio che diceva prima Nils Colombo che qui appoggia la palla al portiere aveva tutto il tempo aveva il tempo poi c'è una bella botta di Carletto Ancelotti anche questa qui avrebbe meritato maggior fortuna e quindi la partita resta sul punteggio di 0-0 poi qui è bravo anche Filippo Galli vediamo Giovanni Galli esce poi Filippo Galli è bravo a salvare sulla linea quasi e quindi questo ultimo episodio ancora è Colombo che imposta questa azione è il portiere in coma una parata di riflesso una bella parata è il punteggio di 0-0 per la gioia di questa singola aveva perso l'andata vedete che Matteus prima fallisce un rigore è stata una qualificazione